Partita la finale internazionale della gara con la tavola Abbiamo Nicola Ferrua, campione italiano della specialità Salvatore Costaiola, bronzo e campionato europeo e juniores Mentre dall'estero abbiamo gli irlandesi Ruth Van Bommel, Sir Spiderman, i romeni Gabriel Poole e Victor Fedul E gli irlandesi Joessin McGrath e Colm Fitzgerald Sia gli irlandesi McGrath che gli irlandesi Van Bommel hanno partecipato ai campionati mondiali del 2008 Sono in atto anche Bernardo Cardellini dello Swimming Club Alessandria Campione italiano Cadetti della specialità Giovanni Legnani, bronzo ai campionati italiani assoluti dello scorso anno La squadra di casa ora fissa si difende con Filippo Perrella e con Fabio Fiorillo Il percorso è quello delineato dalle poe rosse Intanto per la categoria master annunciamo che domani mattina le gare inizieranno con nuoto con ostacoli Anziché con trasporto con manichino Quindi nuoto con ostacoli e subito a seguire staffetta 4x50 ostacoli Anziché con trasporto con manichino Anziché con trasporto con manichino Un'對啊 su separate I'aria Memberi e Silicon Anziché con trasporto con manichino Un'oinette Adesso In questa推cava Quasi Un'ininette Oisin McGrath sta andando a vincere la gara con la tavola dopo aver mancato l'obiettivo della canoa che invece è stato appannaggio del Romero Puglia non manca l'obiettivo della tavola medaglia d'oro all'Irlanda Oisin McGrath e subito dietro Salvatore Costaiola del ciclo nautico Posillipo uno dei più giovani in gara appena 18 anni ma già a bronzo i campionati europei juniores e ben figura anche stavolta in campo internazionale primo McGrath, secondo Costaiola e terzo Bernardo Cardellini dello Swimming Club Alessandria segue Ruth Van Bommel e appena quinto Nicola Ferrua rappresentante della nazionale italiana sta arrivando Cilotiano un applauso